amici della rcm eccoci pronti con un nuovo video e con un appuntamento con l'arte e con la musica oggi abbiamo un gigante della chitarra carissimi amici adesso vi presento Maurizio Vercon ciao Maurizio ciao grazie Maurizio siamo due Maurizi è un bellissimo nome quindi possiamo dire sì sì importante è importante Maurizio Vercon io sono un tuo ammiratore e veramente rimango incantato quando ascolto come scorrono le tue dita nella chitarra ecco per gli amici che ci seguono da casa come inizia la tua passione e il primo approccio con la chitarra ma guarda l'ho detto più volte proprio ero bambino avevo 9 10 anni e nel cortile di casa mia quando ci si riuniva tra i tra tutti i i figli di di queste famiglie che a quella volta tutti quanti avevano almeno due tre figli allora ci ritrovavamo giù numerosi non so dirti esattamente il numero ma il più grande e anche quello più bello più forte più tutto guidava una ktm aveva già le ragazze quindi era già un nostro idolo giovanile lui tra le altre cose si è presentato un giorno con questa chitarra acustica e si è messo a suonare io la sono rimasto incantato di questa cosa qua proprio fulminea e da quel momento in poi quando ho ricevuto la chitarra per san nicola che un nostro nostro appuntamento del 6 dicembre dove i bambini ricevono i doni da quel momento io ho avuto la chitarra in dono e da quella volta non l'ho più lasciata è stato un amore a prima vista incredibile incredibile averla sentita e vista da così vicino perché non mi era mai accapitato in famiglia non si suonava la musica non non svolgeva un ruolo particolarmente importante quella volta è stata proprio una botta incredibile per me ecco maurizio come cresce la tua passione per quest'arte in realtà questa è una cosa che posso posso pensare che viene da qualche altra parte perché ti dico in famiglia non sono mai stato avvicinato da una qualsiasi forma d'arte si pensava molto più alla pratica a casa mia quindi dopo questa prima cosa io da autodidatta ho deciso di continuare a suonare ma proprio perché l'ho voluto io non esistevano ancora i metodi certo e tanto meno le scuole praticamente scuole di musica moderna ce n'era una ma una robetta conservatorio neanche parlare perché era una cosa totalmente fuori troppo classico e quindi io da autodidatta ho continuato da solo in perterrito fino ad oggi ho continuato mentre tanti miei coetanei anche bravi intorno ai 18 20 anni poi hanno deciso di lasciare perché la vita da musicista è molto faticosa diciamo faticosa nel senso non è ricca di ricchezza non è come tu bene mi insegni quindi ci vuole tanto sacrificio oltre allo studio e la pratica ci vuole tanto sacrificio e passione poi magari i risultati arrivano però ne devi di mangiare prima di riuscire assolutamente sì hai fatto tantissimo live tantissimo studio ecco ti piace più l'uno più l'altro o tutti e due la stessa allo stesso livello continuo ancora oggi anche se magari oggi non come studio prettamente didattico ma non so per esempio ecco cristiano ieri mi hanno mandato un provino e io giù a far chitarre a tutta forza quindi anche se sono magari in registrazione io comunque lo studio faccio anche in quel momento perché sai benissimo tu avendo lo studio avendo avuto l'etichetta cioè registrazione se sbagli sbagli no e io non ho tanta voglia di far tanti tagli e tante cose non mi piace l'autotune e quindi tutte le robe che faccio quelle sono e quelle devono buona la prima di solito non dico buona prima però di solito una volta una volta che ho fissato perché mi metto la giocarsi sulla canzone sul provino fino a quando trovo qualcosa di interessante una direzione da prendere e poi cerco di registrare magari a chitarre distorte le faccio più e più volte quindi devo essere preciso metronomico perché poi devo doppiarle e triplicarle di solito metto una destra una sinistra e una in centro quindi alla grande però facendo così devo anche essere preciso perché se faccio una volta sbagliato una volta giusto una volta ribatto una volta no diventa un disastro preciso come due binari di un treno e quindi in realtà io studio giorno dopo giorno oltre anche al fatto del delle frequenze dei suoni sai le robe le robe in studio vanno un po il di là diciamo da dallo studio didattico proprio prettamente didattico di note no certo che quel rumore quel suono stanno bene assieme solamente se sono messi uno in un uno in un altro e quindi vado a ricercare le posizioni e il suono la frequenza una ricerca un po più particolareggiata incredibile rendo conto che sono un po fissato però però poi i risultati sono quelli poi c'ho dei miei trucchi agevole un po il tutto ma certo maurizio poi se puoi fare una breve panoramica con gli artisti con cui tu hai collaborato durante la tua carriera io ho avuto la fortuna di collaborare con grandissimi musicisti e ma ma questo arriva dal live no abbiamo parlato dello studio che il mio che il mio il mio mondo quotidiano diciamo aspetto la bella stagione di solito perché mi piace suonare tanto live il momento che ci si incontra i musicisti riescono anche interagire sia cristiano che dio ultimamente in questi ultimi due anni suonando assieme abbiamo molta sinergia proprio perché essendo un po pazzi tutti e due lui parte un po e cambia un po magari la canzone io sono uno di quelli che improvvisa molto quindi io mi trovo benissimo da sto punto di vista e suonando tanto ho avuto la fortuna di conoscere anche un sacco di musicisti non sono mai stato legato a un genere particolare quindi avendo sfiorato mondi totalmente diversi tipo il pop o il funk o la musica tradizionale anche qua o addirittura balcanica con dei gruppi qua della mia zona ho avuto a che fare con un sacco di persone che magari non c'entravano niente certo come tipo di estrazione musicale però sul palco visto che a me piace molto essere contaminato e ascoltare perché è una cosa importante da dire che oltre a fare i video su youtube bisogna suonare e ascoltare gli altri questa è una cosa che che non tutti ti insegnano diciamo il fatto di suonare e ascoltare gli altri vicino a te ti dà delle possibilità immense e io mi diverto e i grandi soprattutto quelli bravi tipo maurizio solieri ricchi porterà luca colombo o charlie morgan o frank gambale hanno visto sto mio divertimento perché quando li ho conosciuti in realtà c'è stato un po di timore e reverenziale no cazzo mi vedo ricchi porterà lì io il cuoricino batte sì e quindi sul momento io ho sempre sto timore e questa timidezza che secondo me mi salva anche perché sai in sto mondo qua essere sbruffoni o non fai bene figura e ti bruci in due secondi quindi questa mia questa mia timidezza reale fa sì che sto al mio posto certo poi però sul palco se c'è da contribuire con un'occhiata io sono la ecco vedo tutto chiaro e mi appare tutto facile e semplice e quindi ho avuto la fortuna di suonare sul palco con tutti questi artisti ma in maniera molto spontanea stupendo bellissimo seguenza sono riusciti anche a entrare nelle registrazioni perché al punto che chiedevo di essere presenti sono stati felici ecco quindi per me è tutta esperienza e so che da loro hai ricevuto dei complimenti incredibili maurizio parliamo del tuo nuovo disco del tuo nuovo lavoro il nuovo lavoro che in realtà è solo un singolo per il momento l'ho voluto fare perché qua a trieste non so se avevi seguito la vicenda ma il 15 ottobre la il 18 ottobre il 18 ottobre scorso qua trieste ci sono state delle ma c'erano già delle manifestazioni un po come tutta italia no certo per il covid il green pass tutte queste cose qua e ho partecipato a quella famosa manifestazione il 18 ottobre qua trieste dove ho visto queste queste questi camion cisterna sparare che sono cannoni veri e propri io non li ho mai visti sulla gente inerme che magari era anche seduta pacificamente ma senza entrare nella polemica voglio creare fazioni certo però le manganellate i lacrimogeni e visto che io non vado neanche allo radio per farti un esempio perché certo rimango al di fuori di queste cose sono rimasto veramente sconvolto da sta cosa qua ti giuro ci credo anche se il mio essere molto rock così certo in realtà sono una persona mite pacifista con la mia famiglia quei figli gioco faccio delle robe incredibili come hai visto anche nel video esatto tuo figlio partecipato al video bellissimo e questa è una cosa spontanea perché succede ogni giorno queste cose qua quindi fatto sta che mi sono ritrovato catapultato a casa in questo delirio che avevo di ho detto che cazzo non può non possono possono accadere queste cose qua siamo nel 2021 per me era fuori fuori dal mondo guerra io ho visto la guerra l'odio incredibile che che le persone possono ancora avere al giorno d'oggi visto che si arrivava anche da una situazione di un'altra band musicale dove ho subito un po di angherie e poi nelle un po tutto sui social se vedi ci sono ci sono delle cattiverie dette o non dette fuori dal normale secondo me in questi ultimi anni mi sono trovato proprio con sta urgenza di mettere subito in registrazione questa emozione in realtà si chiama war ma è per fare guerra la guerra no certo in realtà è un messaggio di pace assolutamente si energetico proprio perché era ero proprio io sconvolto diciamo da sta cosa no benissimo è nato in atto così dopo solo le due settimane di lavoro io ho chiamato beppe che salutiamo ciao beppe beppe alleo della video radio video radio channel un grande discografico un grandissimo discografico che mi ha già dato un modo di lavorare in più occasioni ormai già tre album miei e due compilation con la rai per cui ho già lavorato tantissimo io dedico la mia carriera strumentale solamente a lui come uscite discografiche voglio ribadirlo poi ovvio che se faccio qualcosa altro con qualche altro artista o altro certo ma lui rimane il mio punto di riferimento una volta per me lui era il mio padre artistico il mio papà artistico al primo disco così lo chiamavo quindi ci tengo tanto a lui pensavo che non non accettasse sta cosa qua proprio perché c'era solamente il singolo non era un disco completo e con lui ho sempre fatto l'album diciamo e invece si è trovato dopo il primo momento che era un po così spaisato da sta cosa mi ha detto va bene facciamolo facciamolo sai sì 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 beppe oltre ad essere un grandissimo discografico è anche una grande persona di cuore quindi avrà sicuramente colto anche il messaggio di questo album questo di questo disco che di questo singolo che tu hai fatto sì spero anche che lo ha capito anche l'urgenza emozionale che avevo infatti mi ha dato spazio guarda il giorno dopo mi ha chiamato ok facciamo facciamo mi ha mandato i contratti manda questo e autorizzazione il video bellissimo un vulcano guarda io chiamo il vulcano perché ho avuto a che fare con altre etichette di solito si va più più che altro a perdere tempo beppe molto diretto ci si mi anticipava in tutto dovevo per fortuna cristiano che che mi ha aiutato anche lui in fase di mixaggio e masterizzazione oltre aver fatto la ritmica e anche messo dei camei vocali quella ha lavorato anche lui in anticipo e quindi avevo tutto pronto se io ho chiamato beppe nel momento più giusto del mondo perché da la due settimane il singolo era già fuori per cui alla grande ci è andato benissimo maurizio in chiusura cosa raccomandi ai giovani perché sapevano che dovevo farti questa intervista è più di un chitarrista mi ha chiesto una raccomandazione per chi vuole approcciare con lo strumento e in realtà l'ho già fatta prima sì perché senza voler perché io raccomando di suonare con gli altri con ok che va benissimo internet vanno benissimi tutti questi metodi tutti questi video didattici dove ti spiegano delle robe incredibili però sai l'esperienza di suonare con le persone che hai accanto e il creare insieme importante io ecco ti dicevo prima che sono venuto a suonare vicino cagliari quest'estate e mi sono trovato la senza strumenti perché ovviamente per per colpa dell'aereo e tutto ci hanno fatto trovare tutto senza la mia esperienza sarei rimasto un po assoluto ma è stato certo certo anche questo vuol dire no ti trovi a suonare con un con l'altro strumento con una persona con l'altra ti arriva gli altri sbattono sul palco ti mettono la chitarra e tu suoni esatto tu suoni anche se in realtà non è tutto come casa tua però il fatto di riuscire a tirar fuori quello che hai and so much go on lo spettacolo deve andare avanti ma per me ma per me è bellissimo questo quindi raccomando ai giovani di trovarsi nelle sale prove come una volta lasciare un po questo internet questa cosa che può servire benissimo a spiegarti tante cose ma avere la persona davanti che te la mostra e poi suonarle assieme assieme magari anche a un basso una batteria sarebbe per me sarebbe l'ideale certo certo bene suonate live alla grande io ti aspetto a cagliari maurizio nel mio studio so che quest'estate forse ci sarà qualche sorpresa non stiamo qua a dirlo e poi se riusciamo a fare anche con cristiano una un'altra diretta insieme con te ci farebbe molto piacere perché abbiamo provato prima però c'era qualche problema tecnico e ti auguro veramente una di cuore una grandissima buona musica che è la cosa la cosa più bella grazie per questo dono che mi hai fatto mi veramente tanto piacere questo dono di questa intervista e ti aspetto a cagliari grazie grazie a te per la tua disponibilità e gentilezza un abbraccio un abbraccio grande e come chiudo tutte le interviste diamoci un taglio